eccoli qui ciao 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 Paolo ciao ciao anche l'altro Paolo ciao come al solito partenza Mauro i guanti li usiamo? fammi vedere come Vanderpool bravissimo e anch'io senza primo ristoro oggi siamo già al primo ristoro sono già arrivati pronti per il rientro è il primo ristoro Paolo la frase del giorno e oggi è dura papà oggi l'inferno del pavè eccolo ma è l'inferno allora minchia vogliono lasciarti a piedi come come on let's go eh guarda è dura ma non fa niente non si mola mai io guarda io vado io vado io vado il bagno il bagno no ma non il bagno non il bagno non il bagno non il bagno lì c'è il bagno ma veramente no ma troppo vicino mi fa impressione ho il nasone mi sono giocato anche io la dignità con le calze da porco bella adesso è lunga ancora sono uno che guarda ogni tanto bravo il vostro ciclismo bravo e questa volta il metto dentro bravo il merito è quello giusto super blue baby i know we stand around i hope we make it to our super blue se vado la se ti allontani di un paio di chilometri si vede anche ancora di più ancora di più vado oggi avvis tornavento 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 buona la prima buona la prima buona la prima